Amici dei profumi, amici di Fabrizio, benvenuti o bentornati su Profumizio. Stasera sono lieto di presentarvi il Festival Bar dei Profumi 2024. Questa è la prima puntata, ripercorriamo insieme l'estate musicale, abbinandola ad altrettanti profumi. Profumi, alcuni hanno spiccatamente delle vibe ancora estive, altri sono adatti per questo periodo di passaggio. La prossima settimana, con la seconda puntata, leggeremo, comunque vi dirò qual è la canzone più ascoltata dell'estate, più gettonata, come si diceva una volta, e vedremo a quale profumo l'ho abbinata. Iniziamo da una canzone che è partita un pochettino in sordina. Questa canzone si chiama Malavita dei Comacose. Una canzone molto particolare, un po' folk, un po' rock. A me è ricordato molto Bocca di Rosa di Fabrizio De Andrè. Una canzone che si è insinuata pian piano nelle radio, ma anche proprio tra la gente. E adesso è diventata molto celebre, anche perché comunque il ritornello è molto immediato, molto cantabile. Dietro questa canzone, che comunque è allegra, appunto è quasi spensierata, c'è una storia però importante, una storia di questa donna, questa Monna Lisa, questo nome d'arte Monna Lisa, quindi una donna misteriosa, che esce dal giro della Malavita. Quindi è una storia che viene raccontata così in terza persona. Questa Monna Lisa è un po' il simbolo di tutte le donne che scappano magari da ambienti che le tengono troppo segregate o dove non possono esprimere la loro personalità. E quindi è un bellissimo messaggio. A questa canzone, che comunque allegra, mi mette comunque appunto di buon umore, ho abbinato un profumo che si chiama Women di Calvin Klein. Un profumo potremmo dire quasi vintage del 2018. I nasi di questo profumo sono Honoré Blanc e Annick Menardo, quindi due nasi veramente molto importanti. Le note di testa sono Pompelmo, Eucalipto, Bergamotto, Limone e Pepe Nero. Nel cuore abbiamo Fiori d'arancio, Tè, Gelsomino, Magnoglia, Edione, Lampione e Lampone. L'Edione, perché stavo pensando già a dirvi questa cosa, l'Edione è un Gelsomino nella sua versione più fresca. E nel fondo abbiamo Cedro, Ambroxan, Muschio Bianco, Kashmiran, Olibano e Violetta. Tantissime note per questo profumo, però devo dire che è molto facile da descrivere. L'apertura è agrumata, molto piacevole, ma anche leggermente dolce. Un pochettino anche speziata, però questo Pepe Nero e questo Eucalipto che sono presenti, secondo me, gli danno una bella apertura, gli danno una riosità che lo rendono veramente molto piacevole. Poi pian piano si asciuga, vengono fuori i Fiori d'arancio che sono grandi protagonisti. Il tè passa un po' in secondo piano. Si sente senz'altro la nota del Lampone nel cuore, accompagnato appunto da tutto un corteo di fiori, un bel bucchè di fiori, in cui non si distingue bene nessun fiore, in particolare tranne il fiore d'arancio. E poi ha questo fondo molto pulito, morbido, morbidissimo. È un profumo che è fresco, ma secondo me sa tanto proprio di pulito. È un profumo che viene chiamato Women, ma è assolutamente unisex, perché apre appunto come una colonia, anzi poi asciugandosi diventa bello legnoso. Rimane la dolcezza del Lampone, però è un profumo che definirei come asciugatura muschiata, legnosa. È un profumo molto fresco, rinfrescante, adatto alle temperature più alte. È un profumo che però sa di pulito, un pulito fiorito, quindi richiama un po' un ammorbidente, un detersivo naturalmente di buona qualità. È adatto per esempio così per il rientro a scuola, il rientro al lavoro. È un profumo che rimane veramente al suo posto, però dà proprio questa sensazione di freschezza, di pulizia, di ariosità. È veramente un profumo molto molto buono, che a volte magari viene un pochettino sdobbato, ma io vi consiglio assolutamente. Io adesso ho questo 30 ml, penso di averlo pagato intorno ai 30 euro, poi ci sono varie offerte, magari sentitelo perché comunque è facile da reperire nelle profumerie e fatevi una vostra opinione. Comunque un profumo molto fresco, con i sex. Un bel saluto all'estate. Buono, molto buono, molto arioso. Non è appunto facile neanche distinguere le note bene. È un profumo di fresco, di pulito, di candore, di camicia pulita, di vestito pulito. Molto molto buono. A me piace molto anche la boccetta con questo occhio e quindi un profumo promossissimo, come la canzone dei Comacose Malavita. Come seconda canzone e secondo profumo, che infatti vado a recuperare, vi parlo della mia cantante preferita. Vi hanno già parlato altre volte, Mietta. Mietta quest'anno dopo 4-5 anni è tornata con un nuovo singolo che si chiama Bang. Questo nuovo singolo appena l'ho ascoltato ho arricciato un pochettino il naso perché ho detto anche lei, insomma, è un po' stile Anna Lisa. Invece poi man mano ascoltandola, devo dire che è una canzone che mi è piaciuta molto. E devo dire che Mietta, quando esce, comunque lo fa sempre con delle canzoni che secondo me sono centrate. Non fa canzoni tanto per fare. Magari in questo periodo, tra l'altro, è tantissimo che non pubblica un intero CD, anche se di questi tempi non è che abbia più tanto senso proporlo. Comunque, però, ha fatto uscire delle canzoni che si sono ben inserite, insomma, nel contesto attuale, pur non snaturando la sua voce, che secondo me è bellissima. Questa Bang è una canzone, sì, un pochettino dance, ma un dance che richiama un po' gli anni 70. Una canzone molto passionale, molto nelle corde di questa voce così scura, ma anche squillante di Mietta. Il video è molto bello, andate a vederlo perché è ambientato nel Museo del Novecento di Milano e il profumo a cui ho abbinato questa canzone, questa Bang, è il profumo divina di Jean Paul Gaultier. Questo è una piccola versione, il 30 ml. L'ho comprato sul sito My Origines, l'ho pagato intorno ai 35 euro. Questo profumo l'ho scoperto quest'estate quando ero in crociera. Sulle navi da crociera ci sono le profumerie, io le snobbo un pochettino sempre perché comunque sono profumi che conosco a mena dito, sono tutti profumi che si trovano da Douglas, da Sephora, da Acqua e Sapone, però comunque ogni tanto nei tempi morti vado, magari risento qualcosa, perché comunque è bello anche sentire delle fragranze che magari appunto tu di solito non porti. E insomma tra tutte le fragranze mi ha attirato questo bellissimo busto. Tra l'altro la versione da 100 ml è veramente molto bella. Me lo sono spruzzato e mi sono proprio innamorato di questo profumo. Buonissimo, un profumo che sa proprio di vacanza, di mare, è del 2023. Tra l'altro ho visto che è passato un pochettino sottotono rispetto ad altre creazioni di Jean Paul Gaultier, però io lo trovo veramente buonissimo. Mi sa proprio di vacanza, di vacanza lussuosa, di vacanza di una dea, infatti il profumo si chiama divina. Il naso di questa fragranza è un naso famosissimo, Kentin Bish, le note di testa sono calipsone, bacche rosse e bergamotto. Il calipsone è una nota marina, però anche un pochettino che sa di anguria, una nota naturalmente di sintesi. Nel cuore abbiamo giglio, ilangilang e gelsomino, quindi ci sono tre fiori, così a sorpresa, e in base meringa, muschio e paciuli. Allora, quando si apre questo profumo un pochettino sa di mare, ma è un mare molto lontano, come se fosse proprio una terrazza, questa dea che guarda dalla terrazza il mare. Attorno a questa dea ci sono questi bellissimi fiori che profumano l'aria. Non si sente, secondo me, un fiore in particolare. E poi l'asciugatura è veramente molto piacevole, si sente molto il muschio, un pochettino anche questa nota di meringa, quasi meringa al limone mi verrebbe da dire. Comunque un fondo pulito, dolce, il paciuli è senz'altro soltanto un fissativo. È proprio un profumo da vacanza in un resort di lusso. Molto buono, si attacca alla pelle tutto il giorno, devo dire che ha una buonissima durata, non ha una scia, una proiezione. Io l'ho utilizzato anche in crociera, perché appunto c'era il tester, quindi qualche volta l'ho provato, proprio perché poi avevo intenzione di comprarlo al mio ritorno, perché comunque avevo visto che i prezzi su internet sono comunque più bassi, anche se sulla nave da crociera non ci sono le tasse, però i profumi costavano insomma abbastanza. E quindi insomma mi sono innamorato subito di questo profumo. Si sente tanto anche la nota di frutti rossi, questa dolcezza di bacche rosse che aprono la composizione, che tra l'altro bilanciano bene con la loro acidità anche tutta la parte un po' appunto marina e di anguria, perché calipsone è un mix di note ozoniche e anguria. Però veramente non sa né di anguria né di aria di mare. Ha un leggero retrogusto salato, i protagonisti sono i fiori, la meringa, questa meringa molto dolce, una meringa un pochettino limonata. E poi questo muschio pulito, la sensazione è quella di avere questa pelle baciata dal sole e dall'acqua del mare, proprio la pelle di una dea. Bellissima la boccetta, veramente un buon profumo. Anche questo ve lo consiglio. Tra l'altro io l'ho anche cercato così per anche risentirlo in varie profumerie, non l'ho trovato. Quindi è rimasto veramente un po' nelle retrovie, ma è un peccato perché è veramente un profumo estivo da dieci e lode. Questo è Divina di Jean Paul Gaultier. Continuiamo il Festival Bar, intanto pian piano cala la luce come quando veramente c'era il Festival Bar, con un duo che mi sta molto a cuore, è la rappresentante di lista. Quest'estate hanno presentato Paradiso, una canzone rock, allegra, spensierata, ma che lancia un bel messaggio. Il messaggio è quello di prendere coraggio, prendere in mano la propria vita, scrivere il proprio futuro, anche a costo di rovinare la festa, come dice il testo. Alla canzone della rappresentante di lista ho voluto abbinare un profumo particolare, adesso capirete questo. È un profumo di questo marchio Shobi, è un marchio di equivalenza che ha sede in Grecia. Questo marchio l'ho scoperto nel gruppo Profumolandia, fondato dalla mia amica Miss Greta Top. Ciao Greta e ciao a tutte le ragazze e ragazzi che sono in questo bellissimo gruppo, anzi se volete iscrivervi è naturalmente aperto a tutti gli avanti dei profumi. E si parlava molto di, oltre dei soliti marchi di equivalenza, di questo Shobi. Questo Shobi soprattutto per i profumi gourmand. Io ho acquistato diversi profumi, li sto testando, poi magari ve ne parlerò in un video dedicato. I profumi costano intorno ai 15 euro per il 30 ml, si possono però avere in tanti formati, o de toilette, colonia, olio secco, crema, profumatore per l'ambiente, anche questo è veramente molto interessante. Poi un'altra cosa che è molto interessante di questo marchio è il fatto che si può aggiungere dell'essenza aggiuntiva. Io in questo caso, come profumo che ho abbinato alla rappresentante di lista, un profumo che sa proprio di estate, di divertimento, anche un po' di tropici, ho voluto abbinare Fleur de la Dele di Miu Miu. Questo profumo io l'ho cercato a lungo, ma non sono mai riuscito a trovarlo. Non lo so, probabilmente quando è uscito è andato subito discontinuato. Magari poi tornerà disponibile. Comunque è un profumo del 2023. Vi metterò poi l'immagine del profumo originale. È un profumo che dalle note mi aveva attirato moltissimo. Ve le leggo. In testa abbiamo mango, nel cuore ho smanto, in base latte di cocco. Questo è un profumo, sentendolo così, diciamo dall'equivalente, però devo dire che dagli altri che ho sentito e che conosco, questi profumi sono abbastanza fedeli. È proprio un tripudio di mango in apertura. Poi pian piano questo mango si addolcisce, si trasforma un pochettino in una pesca, quindi nello smanto, e poi a questo fondo proprio di latte di cocco. Perché qui non si sente il cocco, la polpa, ma proprio un latte di cocco. Un profumo lattonico, dolce, col mango, davvero goloso. Mi sembra che l'avevano anche fatto la pubblicità con questo dolce giapponese, che adesso io non mi ricordo come si chiama, che è appunto fatto di riso e con all'interno questo cuore colante di mango. È proprio così, un dolcettino giapponese al cocco e mango. Un profumo molto buono, che rimane molto intimo, almeno in questa versione di Shobi, che tra l'altro, ecco vi dicevo, ha 0 ml di essenza in più. Perché il bello di Shobi, forse non avevo interrotto il discorso, è quello di poter aggiungere dell'essenza aggiuntiva, quindi fino a 5 ml. E quindi consigliavano le ragazze di Profumolandia, magari su un 50 ml, di aggiungere 1 o 2 ml, per rendere il profumo un pochettino più persistente. Devo dire che questo, rispetto agli altri, è leggerino, ma probabilmente è leggerino anche l'originale. Comunque è uno skin scent, dura una mezza giornata, e questa abbinata mango e cocco, in maniera, sia il mango sia il cocco sono molto morbidi, sono davvero molto molto piacevoli. Spero di avere occasione di sentire anche l'originale, magari appunto poi Miu Miu deciderà di produrlo e lo distribuirà anche su larga scala, almeno così mi immagino, perché è successo anche con tanti altri profumi. Molto buono. Di questo marchio, per quello che ho potuto sentire, questo profumo l'ho utilizzato e ne ho utilizzati anche altri, devo dire che come marchio di equivalenza è molto valido. Mi sono trovato molto bene. L'unica nota, diciamo, negativa è la spesa di spedizione, perché naturalmente questi profumi che in Grecia vengono anche rivenduti nelle parafarmacie, nei negozi, per essere spediti in Italia, insomma, il costo è di 9 euro. Però non è neanche un costo così folle. Magari se si fanno acquisti con qualcun altro si possono anche dividere le spese e poi comunque anche tante profumerie italiane hanno questi prezzi. 7, 8, 9 euro. Non è che siano molto distanti. Quindi anche gli altri mi sono piaciuti, li trovo somiglianti. E poi la caratteristica che ho trovato di questi profumi è il fatto che sono proprio ricchi di oli essenziali. Io infatti adesso mi tocco e sento proprio la pelle oleosa. Il profumo in altri magari un pochettino più alcolico, si devono assestare un pochettino meglio. In questo caso è davvero subito molto piacevole. Non è assolutamente un profumo diciamo cheap, ma anzi buono. Poi questo lo volevo sentire da molto e ringrazio Shobi per avermelo fatto sentire. Comunque poi se vi interessa scrivetemelo, parleremo ancora di questo marchio. Sul gruppo Profumolandia veramente spopola. Passiamo ora ai re dell'estate. Sono tornati alla grande col festival di Sanremo e sono rimasti anche a farci compagnia d'estate con un brano molto carino che strizza un po' l'occhio ai loro vecchi successi, ma che ho trovato veramente molto attuale. Poi quando li sento comunque mi ricordano la mia infanzia, mi mettono allegria. E la canzone di Sanremo mi è piaciuta moltissimo e ancora l'ascolto molto volentieri adesso, ma anche la canzone estiva Aria che i ricchi e poveri appunto hanno lanciato per quest'estate 2024. Visto che i ricchi e poveri ultimamente hanno questo look sempre sobrio, sempre così particolare, sobrio lo dico scherzando, anzi sono sempre molto eccentrici, molto simpatici, con piume, colori, glitter. Ho abbinato un profumo, anche questo, abbastanza imponente. È Ser di Lattafa. Vabbè, questo profumo è meraviglioso. Solo la boccetta vale il prezzo. Io l'ho pagato, se non mi sbaglio, sui Vinted, su Vinted, 30 euro. È un profumo di Lattafa, pesantissimo, questo è veramente un'arma, con questo tappo con il serpente, che mi ricorda un po' i gioielli di Bulgari. Appoggio il serpente perché comunque è pesantissimo e vi vado a leggere le note di questo profumo. Un profumo in cui domina la nota della mandorla, quindi un profumo che mi piace molto. Le note di questo profumo in testa sono mandorla amara e cannella. Nel cuore aghicalavud, gelsomino e pomarose. Il pomarose è una sostanza di sintesi, è una rosa con sfumature fruttate di mela, prugna, uvetta. Nel fondo abbiamo assoluta di vaniglia, fava tonca e ambra. Questo è un profumo che parte bello dolce con questa pasta di mandorle, questa cannella, ma poi pian piano diventa sempre più oscuro. Diventa, secondo me, anche quasi un pochettino bruciacchiato, quasi incensato, ma in maniera, devo dire, molto leggera. Ho visto che è stato paragonato a Camra, Angel Cher. Sì, può essere che piacendovi quei profumi vi piaccia anche questo. Qui però la nota della mandorla è veramente molto preponderante e, diciamo, è presente in tutta la sua composizione. Vado a prendermi anche la cartina in cui l'avevo spruzzato. Sì, l'asciugatura è legnosa, però è sempre un po' un'ambivalenza tra questa mandorla, tra questo dolcetto e un po' delle note incensate, legnose, un pochettino anche di wood. Adesso non mi ricordo se c'è l'wood, no, però c'è la gicala wood, che comunque è un legno sempre di questi belli scuri. La nota di gelsomino e di questa mela io non le sento. Probabilmente addolciscono un pochettino il cuore. Il fondo comunque è molto morbido. Questo profumo io non ce l'ho da moltissimo, quindi, come spesso accade, i profumi arabi vanno un pochettino lasciati riposare. Per il momento non è una bombazza come mi aspettavo, però ha un buon profumo, senz'altro nelle mie corde. Un profumo per gli amanti della mandorla o per gli amanti delle sculture. Devo dire che comunque, leggendo le note, potrebbe sembrare così, molto dolce. Non lo è. È un gourmand però legnoso. Un profumo assolutamente unisex. Secondo me deve maturare, perché questo secondo me diventerà molto potente. Vedete anche il liquido è abbastanza chiaro. è un bel profumo da ritestare. Io ve l'ho voluto far vedere appunto perché non l'ho comprato da molto e poi mi piaceva l'idea di abbinarlo a questi look estrosi dei ricchi e poveri, ma questo forse tirerà fuori il meglio con le temperature più fredde e comunque lasciandolo un pochettino macerare. Questo è SER di Lattafa abbinato ai ricchi e poveri. aria. Concludo la carrellata di oggi con un ospite internazionale, una grande protagonista non solo dell'estate italiana, ma dell'estate di tutto il mondo. Taylor Swift è arrivata qui in Italia col suo meraviglioso tour. Le sue canzoni sono tutte dei grandissimi successi. È la pop star proprio di questi anni. È partita dalla musica country, dalla musica tipica americana, fino a diventare veramente una pop star mondiale. Mondiale trovo che sia molto brava, canti molto bene, sappia tenere molto bene il palco e poi abbia le idee molto chiare sulla sua carriera, sui messaggi che vuole lanciare anche con le sue canzoni. veramente insomma un'artista che merita tutto il successo che ha. una ragazza che anche un po' acqua e sapone, ma bella tosta. l'ammiro molto, molto brava e insomma una delle pop star, anzi la pop star insomma di questo 2024, ma dal 2020 insomma che macina successi. a Taylor Swift, la canzone che mi piace di più è anti-hero, però sono tutte veramente molto orecchiabili, molto belle, hanno anche dei testi interessanti da cantautrice. ho voluto abbinare questo tartellette citron del marchio Jean Artès, vi faccio vedere la confezione. questi profumi avevo quello alla mandorla, quello alla pavlova e naturalmente non poteva mancarvi, mancarmi la tartellette citron, questa tortina al limone. un profumo spensierato, giocoso, adatto a una ragazza giovane come Taylor Swift. questo vuole richiamare questo pasticcino al limone, burroso, come si usa in Francia, e devo dire che è proprio così. molto buono, un limone molto naturale, accompagnato dallo zucchero. queste sono le note che si sentono principalmente. poi pian piano diventa un pochettino più morbido, rimanendo però sempre fresco. la parte diciamo più gourmand, rimane in secondo piano. questo è proprio un profumo rinfrescante, estivo, che ti fa sentire pulito, asciutto. lo zenzero, un bello zenzero perché non è comunque fastidioso, a volte ad alcune persone può dare fastidio. invece qui esalta proprio questo limone, che è un limone proprio spaccato a metà, cosparso di zucchero. tutte le altre note non le sento moltissimo, la fresa, il gelsomino, i legni bianchi. direi che poi si passa subito a questa asciugatura con il legno di cedro e il muschio, un'asciugatura morbida. non è un profumo che dura tantissimo, però per essere un agrumato devo dire che mezza giornata dura. è un profumo che si inserisce perfettamente nella moda di quest'anno. dei profumi al limone, al limone candito, alla crema pasticcera, alla tortelletta, alla tortelletta, alla torta al limone. molto buono, questo è un low cost, con 6-7 euro lo trovate su Nutino. e devo dire che per l'odore che ha è buono. anche la confezione è molto bella, molto curata e mi piace. è un profumo giovane, adatto alle nuove generazioni, adatto alle cantanti rampanti come Taylor Swift. con Tartellette Citron vi saluto, vi ringrazio. si chiude qui la prima serata del Festival Bar dei Profumi. vi aspetto settimana prossima con la seconda e ultima parte. un bacio, ciao ciao con la manina, ciao! ciao!